Silvio Converter, la fantastica novità del momento! Sei stanco di sentirti comunista, pessimista, disfattista? Guardi la tv e piangi? Allora devi provare subito Silvio Converter! Silvio Converter è straordinario e semplicissimo da usare! Accendi Silvio Converter! Schiaccia il tasto comunista e inserisci i tuoi dati! Poi premi il tasto C per convertirli! Ascolterai una breve elaborazione! Il pulsante libera inizierà a lampeggiare e ti sentirai subito meglio! Potrai sentirti finalmente libero e liberare! Silvio Converter è meraviglioso e facilissimo da usare! Milioni di italiani l'hanno provato e ne sono entusiasti! Loro ce l'hanno fatta! Puoi farcela anche tu! Sì! Buon! Grazie a tutti.